Si è celebrata in questa settimana la quinta giornata del Tomeo Special Futsal, il campionato di calcio a 5 organizzato dal Comitato Provinciale di Arezzo, Wisp Sport per Tutti, dedicato agli atleti speciali insieme ai volontari e operatori delle associazioni delle strutture sanitarie che li seguono. Il mese prossimo si disputerà la fase finale che premierà una delle 5 squadre che in questi mesi si sono scontrate sul campo delle spala sport di Marciano della Chiana, ovvero il Clà Electra e il Pionta di Arezzo, l'associazione Arcadia di Terra Nuova Bracciolini, il CAM di Teronto La Cortona e l'associazione Tallone di Achille di Bibiena. La squadra valdarnese dell'Arcadia si è giudicata la giornata, rispettivamente seconda e terza sono arrivate le due retine Electra e Pionta, quarti i casentinesi del sviluppo del taller, con il tallone Bechille e quinto il CAM. Bendito mio ViveI